Vendesi West Rezzo 1923 ad imprenditori veramente interessati a far grande questa società, a stenersi per di tempo ed ex presidenti falliti rivolgersi a Severini telefono 0575 299 910, altri non è che il numero della sede sociale. Non è la trovata di un burlone perché questa mattina abbiamo trovato proprio davanti alla nostra sede questo manifesto, altri ne sono stati affissi in varie parti della città. La fotografia è sinteticamente drammatica perché evidenzia lo stato di crisi del calcio aritino. In molti si chiedono a che fine possa fare questo calcio in questo contesto dove c'è una società che annaspa, dove ci sono in corso delle presunte operazioni di vendita e dove soprattutto non si sa quale futuro potrà avere questo pallone a tinte amaranto. E allora anche noi ci associamo a questa esortazione che apparsa nel volantino diffuso. Ci sono dei imprenditori seri, appassionati, capaci di poter costruire un progetto importante ai posti a rilardo a sentenza.